Torsiabe, Tornado, Ulenacar, vediamo chi la spunta, allineamento completato, inizia a prendere velocità la macchina, via la macchina, chiusura, Torsiabe difende lo steccato, ma insiste Tornado, lotta incerta, Rugantino ci prova, ci prova e ci crede Rugantino, Lucio Becchetti, Tornado, di nome di fatto, 12 e 4, è lui, l'uomo del giorno, il Rugantino, Lucio Becchetti, Tornado, Spritz, bel primo piano, Torsiabe ha fatto di tutto, ma ha trovato un cavallo veramente alleprato, come si può dire, Ulenacar con quel numeraccio non poteva far di più. E ora in premiazione, Lucio Becchetti con il suo Tornado Spritz e la famiglia Giuliano a premiare.